Ehi tu, sei pronto per un viaggio sonoro davvero speciale? Oggi, esattamente il 30 settembre, festeggiamo la giornata internazionale del podcast. Quel giorno dell'anno in cui tutti noi, amanti delle storie e curiosi delle voci accattivanti, alziamo il volume e celebriamo il fantastico mondo dei podcast. Ascolta questa, ci sono più di 2 milioni di podcast in giro per il globo. E non stiamo parlando solo di chiacchiere da bar. Immagina tutte quelle voci che si intrecciano nell'etere digitale da discussioni profonde a storie scioccanti, da consigli pratici, a chiacchiere spensierate. È come se avessimo un enorme buffet di conoscenza e intrattenimento a portata di click. Sì, lo so, sembra che il mondo dei podcast sia un'esplosione di creatività con ogni argomento immaginabile che trova il suo spazio nell'etere. E sai una cosa? Anche tu puoi farne parte. Forse hai una passione segreta per le esplorazioni subacquee delle meduse. O forse vuoi condividere i tuoi trucchi per far crescere piante carnivore. Qualunque sia la tua passione, c'è un podcast lì fuori che aspetta di essere creato proprio da te. E non preoccuparti delle attrezzature supercostose. Tutto ciò di cui hai bisogno è una voce appassionata e una buona dose di entusiasmo. E poi c'è l'ascolto, una delle attività più rilassanti e stimolanti che puoi fare con le orecchie. Quando metti le cuffie e inizi un podcast ti ritrovi in un mondo nuovo, come un viaggiatore del suono. Puoi essere in fila al supermercato, sdraiato su un'amaca, ma la tua mente è ovunque ti portino le parole degli ospiti o i racconti degli speaker. Allora, mentre trascorri questo 30 settembre, perché non pensi a come potresti far parte di questo straordinario universo sonoro? Potresti registrare un episodio speciale, condividere una storia che ti rimasta nel cuore o persino lanciare la tua serie di podcast. È come alzare il sipario sulla tua voce unica. In definitiva, oggi è il giorno perfetto per immergersi nella vastità dei podcast, lasciarsi ispirare, chi lo sa, magari anche dare il via alla tua avventura di podcasting. Ricorda, non importa se sei un veterano dell'audio o se stai appena mettendo piede in questo mondo, ciò che conta è la passione che metti in ogni parola e in ogni suono. Quindi, segna questa data sul calendario e preparati per un giorno di storie coinvolgenti e voci affascinanti. Potrebbe essere proprio oggi il giorno in cui inizierai a condividere le tue idee con il mondo. Non vedo l'ora di sentire che cosa hai da dire. E se hai bisogno di un supporto, questo canale YouTube, ma anche questo libro, sono pronti per darti una mano. Grazie, buona festa del podcast e noi ci vediamo settimana prossima. Ciao! Ciao!